questa gatta è indescrivibile è una potenza della natura guardate ha beccato un topolo io avevo visto che guardava guardava mentre io lavoravo a me mi dispiace quando ammazza i maletti piccoli l'altra volta una rocetta adesso è un topolino un topolino di campagna guardate mamma mia stava guardava guardava dico ma che fa o e guarda questi escono per cercare di mangiare qualcosa è rimasto mangiato guardate l'ha mangiato intero mi sembra un serpente i serpenti ma ma che sei un coccodrillo fai un piantino adesso si fa il pianto guarda fa il pianto del coccodrillo gatta mamma mia che sono gli animali questo effettivamente come dice quel signore è un carnivoro è un felino è un felino secondo me questo è selvatico un misto fra selvatico e domestico è tremendo perché riesce a cacciare con facilità estrema gli animali ok mamma mia che tremendo che è ciao